L'ex di Nonella Rai parla del rapporto con suo marito e delle sue figlie con Clayton e Clarissa. Eleonora si prende un momento per aprirsi con i suoi compagni di casa, che, incuriositi, ascoltano attentamente il racconto della splendida famiglia che ha costruito. Stiamo molto bene insieme, ci compensiamo, afferma, sottolineando la differenza tra lei e suo marito. Lui è più riflessivo e l'aiuta a concentrarsi su ciò che è veramente importante nella vita, un approccio a cui lei non è abituata, essendo più incline a prendere le cose con leggerezza. Clarissa, affascinata dal racconto, percepisce l'amore e il legame che unisce la famiglia di Eleonora. Mi mancano molto, ammette l'inquilina, visibilmente commossa. Anche Clayton non rimane indifferente e, curioso, le pone una domanda. Qual è stata la sfida più grande per te nel matrimonio? L'ex di Nonella Rai, ammette di aver dovuto trovare molti compromessi per far funzionare il rapporto. Per lei, il dialogo tra due persone apparentemente diverse è fondamentale, anche se a volte difficile. Poi, con un velo di malinconia, Eleonora parla delle sue figlie, che ama profondamente. Le ho desiderate tanto, dice, con un'espressione dolce e allo stesso tempo nostalgica.